Anycubic Cobra S1 Combo, una stampante potente, veloce, silenziosa provata da un neofita della stampa 3d come me. In questo video vi racconto la mia esperienza dal primo setup ai miei errori più clamorosi. Se state pensando quindi di acquistare la vostra prima stampante 3d questo video è per voi. Devo dire che la prima cosa che mi ha stupito di questa stampante, la mia prima stampante 3d, è stata la facilità di configurazione quindi sia per quanto riguarda la connessione al wifi che lo scaricamento dei vari programmi dello slicer Anycubic, dell'app per smartphone e dell'app per il pc. Un'altra cosa che mi ha stupito è stato il livellamento automatico, tutta la configurazione del piatto e di tutte le regolazioni che praticamente fa tutta da sola e terza cosa che mi ha stupito in positivo è stata la rumorosità. Alcuni video che ho visto, le recensioni di questa stampante la davano per molto rumorosa invece ho potuto appurare che è abbastanza silenziosa soprattutto se si tiene spenta l'opzione asciugatura del filamento nel Lace Pro. Ok questa stampante mi è piaciuta tantissimo ma alla base di tutto per avere una migliore esperienza di stampa è sicuramente importante avere un pc con un sistema operativo pulito e stabile. Io utilizzo windows e per risparmiare sulle licenze mi affido al sito casefun. Vi lascerò qui sotto in descrizione il link con i miei codici sconto in cui potrete acquistare una licenza di windows 11 pro a circa 13 euro e se andate al link in descrizione potete vedere il sito di casefun che offre licenze OEM legali e scontate di windows e office 100% ufficiali con attivazione online e un servizio di supporto clienti 24 su 24 365 giorni l'anno se dovete acquistarne una frettatevi perché queste sono offerte limitate nel tempo guardate i prezzi questi sono già con i codici sconto che vi fornirò anche in descrizione windows 11 a soli 13 euro e 63 facciamo buy add to cart più cart inseriamo il codice sconto mo 50 ed ecco il prezzo totale vediamo la prima accensione con video un po velocizzato scegliamo il linguaggio italiano avanti globale avanti e come vedete ha già trovato la mia wifi quindi basta inserire la password e saremo subito collegati con il wifi prossimo qui possiamo scansionare il QR code per installare subito l'app eccola qua prossimo qui verremo guidati dal display mano a mano a inserire la chiavetta usb fare tutti i test la risonanza il livellamento del piatto e tutto il resto adesso andiamo avanti un po col video non vi faccio annoiare troppo con tutto il tutte le regolazioni e siamo pronti facciamo avanti e andiamo a stampare per prima cosa un modello già compreso nella stampante un test model scegliamo quindi il nostro filamento io userò un PLA plus della Sunlu e ho utilizzato un profilo standard PLA di Anycubic scegliamo il colore qui possiamo vedere tutti i parametri io non toccherò assolutamente nulla e andremo a stampare subito la Benchy e facciamo anche un timelapse avanti ecco il risultato la famosissima barchetta c'è un po di stringing all'interno della cabina ma ci sta a questa velocità guardate la precisione comunque della stampa adesso vediamo con quanta facilità sono andato a stampare un progetto che mi interessava il raccoglietore di cacchette di filamento e quindi passare dal maker online alla stampa 3d quindi ho aperto in automatico il progetto qui possiamo modificare eliminare ruotare gli oggetti da stampare io l'ho ruotato e poi basta scegliere il materiale il colore per vedere il piatto modificarsi queste voci in arancione significa che sono le voci che sono state modificate dalle impostazioni standard del profilo io ho lasciato quelle impostate dal da chi ha fatto il progetto faccio lo slice e lancio la stampa con remote print come vedete il tasto start print è disattivato non riuscivo a capire perché mi sono accorto che praticamente il progetto prevede due tipi di materiali uno per l'oggetto e l'altro per i supporti in questo caso io ho utilizzato il ptg sia per l'uno che per l'altro una volta impostati i due campi a discesa è possibile inviare il progetto alla stampante ed eccola qua che parte qui possiamo andare a monitorare tramite la telecamera interna la stampa eccola qui e possiamo anche monitorare i tempi naturalmente la stessa cosa la possiamo fare dall'app tramite il nostro smartphone e possiamo monitorare sia i tempi che la telecamera interna e 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 ma vediamo adesso i miei errori da principiante il primo errore è stato acquistare questo kit di filamenti della sonlu questi qua per carità questi sono degli ottimi filamenti sono pl a plus ci ho stampato i diversi oggetti che vedete qui sono venuti benissimo ma il problema è il formato della bobina questo formato non è compatibile con l'ace pro infatti se vediamo la bobina da un chilo standard calza perfettamente nell'ace pro invece il questo filamento da 250 grammi non va assolutamente bene inoltre il formato da un chilo quando viene ritratto il filamento si riarrotola in automatico mentre questo non non riesce a tornare indietro perché non tocca le guide e quindi vi ritroverete dei fili tutti sparsi all'interno dell'ace pro ma l'errore più clamoroso è stato quando smontato il filo di ho provato vedendo i video con cui con facilità rimuovevano l'hotend si fa in questa maniera ho provato a rimuovere l'hotend e essendoci del filo nell'estrusore non l'ho rimesso perfettamente in sede questo mi ha provocato un grandissimo danno alla stampa successiva non so se si vede ho rovinato il piatto per fortuna il piatto è doppia faccia e sto utilizzando questo in ogni caso ho contattato il servizio clienti il servizio il supporto del anycubic mi hanno promesso di inviarmi un nuovo piatto e un nuovo hotend quindi un plauso al servizio del supporto tecnico di anycubic se volete smontare per la pulizia l'hotend conviene accendere la macchina portarlo nella posizione centrale davanti scaldare l'hotend e dopo di che con una pinza aprire il questo fermo smontarlo e farlo arrivare perfettamente in sede ho sbagliato smontare l'hotend a freddo e quindi non sono riuscito poi più a infilare il tubo in ptfe completamente dentro perché c'era ovviamente del pla nell'estrusore e quindi non ho fatto aderire bene l'hotend al dissipatore un'altra cosa che ho imparato è che per stampare un oggettino così piccolo multifilamento richiede tantissimi cambi colore a ogni strato quindi c'è bisogno che venga tagliato il cavo venga ritratto nell'ace pro e quindi c'è uno spreco di colori incredibile infatti per stampare questa paperella ho dovuto buttare via tutto questo pla e ora passiamo ai consigli che mi sento di darvi dopo qualche settimana con questa stampante allora sicuramente livellare il piatto ad ogni modifica quindi quando cambiamo il piatto quando smontiamo l'hotend eccetera un'altra cosa importante è fare la calibrazione della risonanza quando spostiamo la stampante da un tavolo ad un altro per compensare le vibrazioni e per quanto riguarda invece i software ci sono principalmente tre tipologie di software che andremo a utilizzare i siti per andare a recuperare i nostri modelli 3d io ho utilizzato sia Maker Online di Anycubic e sia Thingiverse il bello poi che possiamo andare a scaricare questi modelli e andarli a modificare con un software in modellazione 3d ovviamente c'è il software di slicing io ho utilizzato Anycubic Slicer Next di Anycubic che è una derivazione di cura invece per la modellazione 3d esistono tre grandi software in ordine di difficoltà il primo è Tinkercad il secondo è SketchUp e poi c'è il più completo e più complesso di tutti Fusion 360 io in questo momento però sto utilizzando SketchUp un altro consiglio utile è di attivare la funzione brim dello slicer adesso vi faccio vedere dove si trova che permette un'adesione migliore al piatto soprattutto per i pezzettini più piccoli da stampare che dire 599 euro per una stampante completamente chiusa per stampare multimateriale abbiamo anche l'Ace Pro per avere la stampa multifilamento fino a 4 bobine una telecamera per monitorare da remoto la stampa per fare anche dei timelapse anche se in bassa risoluzione abbiamo anche compreso nell'Ace Pro un essiccatore di filamenti e delle stampe veramente veloci e anche precise un display touch capacitivo molto preciso e quindi non posso che ritenermi soddisfatto da questo acquisto per me è approvata se vi è piaciuto il video pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao